Quanti di voi stamattina, siate onesti, siate onesti, quanti di voi avete mai, è quasi scontato, va bene, quanti di voi avete mai inciampato? Dovrebbe essere un 100%, se no hai dei superpoteri, se non sei mai inciampato. E' un'esperienza non proprio piacevole, vero? Può essere a volte anche molto imbarazzante. Mi ricordo una volta, sapete, io ho fatto l'elementare a pochi passi da qua a San Sisto, si chiamava San Sisto Sud, e a quei tempi nemmeno avevamo una scuola, la scuola era dentro un palazzo, e c'era un vialone che tu dovevi scendere per arrivare al terreno di questo palazzo, e ogni piano era una classe, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta elementare. Così, stranamente, non mi succede mai, ma ero in ritardo, e così avevo lo zaino, aveva pievuto, stavo correndo, e potete già immaginare cosa è successo, ho fatto un megavolo, sono riuscito a strisciarmi tutte e due le braccia, le gambe, credo anche il mento, forse anche il naso, e miracolosamente non ho rotto niente, però è stata un'esperienza, entrare in classe, tutto insanguinante, tutti che mi guardavano strano, e non è stata proprio l'esperienza più bella della mia vita, però posso dire questo, che molti di voi, probabilmente, avete inciampato molto peggio di me, forse avete anche rotto qualcosa, quando siete caduti, la cosa ancora più brutta, è quando cadi così forte, che non ti puoi rialzare, speri solo che, c'è qualcuno che ti dà una mano, e dici io non mi alzo più, ma sapete, ho una buona notizia per voi, per nessuno di voi presenti, di noi presenti, inciampare è stato permanente, siete qua, siete arrivati con i vostri piedi, più o meno, forse qualcuno ti ha dovuto rialzare, ma ti sei rialzato, anche per il nostro caro Claudio, che conoscete, inciampando si è rotto il femore, è stata molto lunga, però lui si è rialzato. Oggi parleremo quindi, di inciampare, di inciampare, il messaggio di oggi è su inciampare, Israele, dice la parola di Dio, è inciampato, e la domanda che Paolo si fa, è questa, si rialzerà, pregiamo. Signore Santissimo, ti vogliamo lodare, per il privilegio, di conoscerti stamattina, apri gli occhi dei nostri cuori, parlaci, attraverso la tua scrittura ispirata, attraverso il tuo spirito che è in noi, ti voglio pregare, che nessuno di noi, possa uscire di qua, senza una convinzione maggiore, un amore maggiore, per la tua parola, ma molto di più per te, e per le tue promesse. Grazie Signore, che anche quando noi inciampiamo, tu ci diazzi, e ci proteggi, e così è fatto anche, con questo popolo meraviglioso, che ci ha dato i patti, e le promesse. Cambiaci, trasformaci, il Signore tu conosci i cuori, io ognuno stamattina, forse sicuramente c'è qualcuno qui, ancora, che non è figlio tuo, che possa essere oggi, il giorno in cui tu, li rialzi, e apri i loro occhi, perché ti vedano, per quello che tu sei, per le meravigliose promesse, che tu gli vuoi offrire stamattina. Nel nome di Gesù, Amen. Lo ripeto ancora, siamo in Romani, Romani capitolo 11, e vi ricordate, che capitoli da 9 a 11, parlano di Israele, e parlano di inciampare. Infatti, la Bibbia dice, in questi capitoli, che Israele, è inciampato. Romani 9, 31 a 33, che abbiamo studiato ormai, non so, tempo fa, ci spiega, perché Israele, è inciampato. Quindi potete sbirciare, se avete già, la scrittura aperta. Versetto 31, di capitolo 9, dice, Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata, non per fede, ma per opere. E si hanno urtato, nella pietra, di inciampo. Come è scritto, ecco, io metto in Sion, un sasso di inciampo, è una pietra di scandalo, ma chi crede in lui, non sarà deluso. Israele ha trovato una pietra sul proprio cammino. E questa pietra è Gesù. Gesù è venuto per essere la loro via, ma piuttosto che seguire Gesù, hanno cercato di scansarlo e farsi strada da soli. Così arriviamo al capitolo 11, di Romani, e guarderemo insieme i versetti da 11 a 15. Romani 11, da 11 a 15. E Romani 11, 11 comincia con questa domanda. Sono forse inciampati perché cadessero? Gli ebrei sono inciampati perché cadessero? Leggiamo. Ora, io dico, sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo. Ma a causa della loro caduta, la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo, e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Parlo a voi, stranieri, in quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti. Paolo ci chiede, è arrivata la fine di Israele? L'inciampo di Israele è permanente? Devo confessarmi una cosa, inizialmente guardando questa domanda sono inciampato, sono inciampato mentalmente per cercare di capire quello che Paolo stava dicendo stamattina. Questa frase, sono forse inciampati perché cadessero? Finché non mi sono ricordato che c'è una differenza tra inciampare e cadere. qual è la differenza tra inciampare e cadere? Inciampare significa che hai qualcosa davanti che in qualche modo ti fa perdere l'equilibrio, è vero? Il nostro amico Trecani online gratuito dice mettere il piede in un fallo, andare a finire inadvertitamente col piede contro un ostacolo mentre si cammina. invece cadere sarà la conseguenza di inciampare se non ti fermi. Infatti la definizione è precipitare, andare dall'alto verso il basso mosso dal proprio peso, rovinare, crollare, si dice di persona che ha perduto l'equilibrio o per altro motivo va a terra. Vedete la differenza? Adesso torniamo a quella domanda di prima di Paolo. Sono inciampati perché cadessero? Paolo dice in altre parole vi ho detto che il popolo di Israele tranne una minima parte è inciampato in Cristo perché voleva la giustizia per le opere piuttosto che per fede. Ma questa situazione è permanente? Tanto per cambiare qual è la risposta di Paolo? No di certo un'espressione che abbiamo sentito più volte in questo libro. E oggi vedremo perché. Vedremo che anzi l'inciampare di Israele ha avuto dei grandi benefici per il mondo. E ricordatevi sempre Giovanni 3,16 Dio ha tanto amato non soltanto Israele ma il mondo. Quindi oggi vedremo insieme questo è il titolo del messaggio se volete quattro benefici dell'inciampo di Israele. Ho cercato tante altre parole per non mettere la parola inciampo ma la parola è quella non è un bel titolo ma ci dà l'idea di quello di cui guarderemo stamattina. Giusto per un po' di contesto vi ricordo che l'ultima volta vi ricorderete sicuramente abbiamo visto il prezzo dell'incredulità di Israele. brevemente vi do i tre punti dell'ultimo studio che abbiamo fatto nel primo versetto 7 di Romani 11 è che la maggior parte di Israele ha il cuore come? Indurito esatto. Secondo abbiamo visto non soltanto chi ha il cuore indurito ma come che Dio ha indurito i cuori della maggior parte di Israele dice versetto 8 e infine abbiamo visto che l'indurimento di Israele è il giudizio per la loro incredulità versetti 9 10 quindi tutto quello che noi vedremo stamattina è la conseguenza di questo pensiero e comincia con questa domanda una domanda che ho ripetuto già mille volte se è vero che Dio li ha induriti io dico sì sono induriti sono forse inciampati però perché credessero no di certo non sia mai che Dio non mantiene le promesse in che senso se Dio ha detto che Israele aveva delle cose che avrebbe avuto per sempre Dio deve mantenere questa promessa se non è più Dio ed è impossibile che Dio non sia Dio Dio mantiene le promesse guardate Deuteronomio 31 8 se volete segnarvelo dice così Dio dice al popolo Israele il Signore Yahweh cammina egli stesso davanti a te egli sarà con te non ti lascerà e non ti abbandonerà non temere e non perderti Danio sentite a me piace prendere un versetto del Vecchio Testamento e prenderlo per me perché è vero che Dio non mi lascerà è vero che Dio non mi abbandonerà ma nel momento in cui noi pensiamo che forse in qualche modo quello andava bene per Israele ma adesso via Israele tocca a me ci siamo persi il senso del testo Dio Dio ho promesso che avrebbe sempre amato questo popolo eppure il popolo direte ha rifiutato il Messia è vero e ci sono delle conseguenze gravi per questo Dio li ha condannati e si sono induriti nei loro cuori affinché non credessero come abbiamo visto l'ultima volta ma e questa è la buona notizia di oggi l'indurimento l'inciampo è temporaneo e ha dei diversi ha diversi benefici per noi quanti di voi non siete ebrei stamattina non per fare razzismo anzi quanti di voi siete gentili cioè non di non di qualche tribù di Israele in teoria dovrebbero essere quasi tutti vero perché ci sono pochi ebrei che credono ormai in questo momento anzi non ormai ho sbagliato l'indurimento è temporaneo guardate il primo beneficio l'inciampo di Israele dice il versetto 11a ha provocato la salvezza degli stranieri per te per me rileggiamo il versetto 11 dice ora io dico sono forse inciampati perché cadessero no di certo ma a causa della loro fate attenzione a questa parola caduta la salvezza è giunta agli stranieri qualcuno di voi c'è l'espressione che ho avuto anch'io quando ho letto questa parola caduta ha appena detto che non sono caduti e poi dice a causa della loro caduta una buona notizia la risposta è molto più semplice di quello che penserete è una scelta di traduzione un po' debole infatti qui non sta parlando tanto di caduta una parola migliore sarebbe trasgressione infatti la parola qui che traducono caduta non è la stessa parola greca che c'è prima per cadere meno mai quindi Dio non si sta contradicendo siamo già convinti di questo sicuramente quindi è un capire bene cosa significa questa parola quindi potremmo rileggere il versetto 11 questa parte dice a causa della loro trasgressione la salvezza è giunta agli stranieri a causa della loro durezza di cuore a causa della loro trasgressione la salvezza è giunta agli stranieri un paio di osservazioni importanti su questo versetto Dio vediamo qua nel testo ha usato il male di Israele cioè la loro ribellione il loro indurimento per il bene del mondo Dio ha usato il loro inciampo affinché i gentili camminassero nella via che Dio ha inaugurato per loro Dio ha usato il loro rifiuto il rifiuto di un popolo affinché il Vangelo arrivasse a tutti i popoli incluso te e me Dio ha usato il male per il bene una seconda osservazione qua è che l'auto esclusione temporanea di Israele è stato il mezzo per l'inclusione dei gentili nel piano di Dio l'auto esclusione la loro durezza che poi ha spinto Dio all'indurimento totale di questo popolo l'auto esclusione temporanea di Israele è stato il mezzo per l'inclusione dei gentili nel piano di Dio vorrei tornare un attimo potete ascoltare atti 13 vediamo proprio il momento in cui Paolo in qualche modo annuncia un cambiamento nella sua strategia missionaria in atti 13 infatti Paolo dove andava quando lui evangelizzava vi ricordate il primo posto dove vado è la sinagoga perché nella sinagoga loro avevano già le scritture dice se io vado nelle sinagoga lì hanno la parola di Dio io devo solo annunciare che il messia che loro stavano aspettando è arrivato e loro crederanno ma non è stato così purtroppo infatti dice in versetto 44 di atti 13 il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola del signore erano curiosi di sentire questa cosa ma i giudei ma proprio i giudei vedendo la folla furono pieni di invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo ma Paolo e Barnava dissero con franchezza e qui è una chiave di volta nel mistero delle missioni mondiali e in qualche modo del piano di Dio era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio ma poiché la rispingete e non vi ritenete degni della vita eterna ecco ci rivolgiamo agli stranieri Paolo ha raggiunto i gentili quando gli ebrei non ascoltavano qui è molto importante capire che i gentili non erano un piano B per Dio ma Dio ha usato proprio l'incredulità di un popolo a cui lui aveva già dato tanto per secoli l'incredulità di Israele è stato proprio il mezzo che Dio ha usato è un po' come quando noi diciamo io non riesco a capire perché devo pregare se tanto Dio ha già deciso tutto vero? ma proprio la tua preghiera è il mezzo che Dio usa per fare la sua volontà e così questo rifiuto da parte di Israele come popolo è stato proprio il mezzo che Dio ha usato per portare gentili o stranieri come te come me nel regno di Dio una piccola applicazione prima di andare avanti mi ricordo benissimo un mio amico un amico mio e di Melody alcuni di voi ve lo ricorderete se vi dico il nome è venuto in Italia un po' scoraggiato perché l'aveva lasciato la sua fidanzata era triste però ha detto una cosa molto profonda in quell'occasione che non mi dimenticherò mai ha detto questo ora so di una persona che non devo sposare la rettura di quel fidanzamento ha fatto sì che lui avesse la convinzione ok questa porta è chiusa sicuramente adesso so che quella non è la porta dove devo andare Dio a volte permette delle porte chiuse per aprirne più grandi più belle e questo è un segnale che noi ci possiamo fidare di Dio infatti Romani 8 28 bisogna citarlo spesso dice tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo disegno o proponimento ora Paolo ci porta a un secondo beneficio non soltanto l'inciampo di Israele ha provocato la salvezza degli stranieri se l'incredibilità di Israele ha portato al beneficio della nostra salvezza anche la nostra salvezza scopriamo adesso porterà un beneficio per il popolo di Israele infatti il secondo punto 11b è questo la salvezza degli stranieri porterà la gelosia di Israele dice questo la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia avete mai notato come può succedere che i figli prendano per scontato i genitori siamo tutti stati figli quindi siamo tutti in qualche modo stati sicuramente colpevoli di questo vero? ma è molto divertente vedere magari un bambino che sta giocando ignorando i genitori vieni e ignora il momento che tu metti un altro bambino magari di un'altra famiglia vicino e questo genitore comincia a dargli attenzione che fa il bambino il figlio gli abbraccia gli prende la gamba mamma papà io questo è quello che succede e succede anche purtroppo nel matrimonio che prendiamo per scontato del coniuge è vero magari un uomo non dimostra alcun interesse verso la moglie ma appena la moglie comincia a passare più tempo con un altro uomo indovinate un po' il marito diventa geloso può essere anche il marito più cattivo del mondo sembra che sia la natura umana di prendere per scontato certi rapporti finché non vengono a mancare e così sarà secondo la parola di Dio tra Israele e il rapporto che Dio ha con i gentili Cantico dei Cantici 8.6 dice la gelosia è dura come soggiorno dei morti i suoi ardori sono ardori di fuoco fiamma potente la gelosia è una gran cosa una cosa così potente a volte violenta tre osservazioni su questo brano Israele quindi non accetta di buon grado che noi gentili abbiamo un rapporto intimo con il loro Messia i primi ebrei erano scandalizzati che ci fossero dei gentili che si convertissero è impossibile diceva Pietra è impossibile che Cornelio abbia lo Spirito Santo è impossibile che sono diventati cristiani non sono ebrei ma proprio questo è successo dopo tutto come abbiamo letto in Romani 9 dove agli israeliti appartengono l'adozione e la gloria i patti e la legislazione il servizio sacro e le promesse c'è una seconda osservazione non soltanto Israele non accetta di buon grado che noi gentili abbiamo un rapporto intimo con il loro Messia secondo il testo Israele sarà sempre di più spinto a rivalorizzare quello che hanno perso sapete che sempre di più ci sono ebrei che si stanno convertendo al Messia ai tempi di Gesù prima che l'impero romano per perseguitarsi i cristiani sono stati gli ebrei a perseguitare i propri fratelli ebrei cristiani ormai sono passati diversi secoli e sta cambiando quella storia Isaia 11-12 ci promette questo dice egli alzerà un vessillo verso le nazioni raccoglierà gli esoli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra Isaia 43 che citiamo spesso dice non temere perché io sono con te a chi parlava Isaia a chi parlava Dio qua primariamente a Israele dice io ricondurrò la tua discendenza da Oriente e ti raccoglierò da Occidente dirò al settentrione da e al mezzogiorno non trattenere fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra tutti quelli che portano il mio nome che io ho creati per la mia gloria che ho formati che ho fatti sta parlando dei non ebrei? forse anche ma qui sta parlando primariamente è una promessa che Dio sta facendo agli ebrei io ricondurrò la tua discendenza c'è una parola che parla di sangue Dio ha scelto questo mezzo cioè la gelosia per riportare Israele a sé Isaia 55 non l'ho fatto apposta a scegliere Isaia tante volte ma Isaia parla molto di questo Isaia 55 56 dice ecco tu chiamerai nazioni che non conosci e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te a motivo del Signore del tuo Dio del Santo d'Israele perché Egli ti ha glorificato cercate il Signore mentre lo si può trovare invocatelo mentre è vicino piccola applicazione prima di andare avanti e tu se nel tuo cuore ti sei allontanato dal Signore cosa dovrà fare Dio per farti in gelosia non hai mai pensato questo e questo ci porta al terzo beneficio se l'incredibilità di Israele ha portato al beneficio della nostra salvezza e la nostra salvezza porta alla loro gelosia è un ritorno come popolo al Messia versetto 12 dice che il ritorno di Israele sarà più glorioso del suo allontanamento ora dice se la loro caduta stesso problema con la parola di prima quindi trasgressione se la loro trasgressione è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri quanto più lo sarà la loro piena partecipazione come ho detto ancora qui la parola caduta è la parola trasgressione tre osservazioni molto importanti qua su questo versetto 12 la prima è che la miseria spirituale di Israele il loro allontanamento la loro trasgressione la loro incredulità ha portato alla ricchezza spirituale dei gentili ancora mi vengono esempi dei bambini stamattina noi abbiamo dei bambini ormai cresciuti e spesso vogliamo cercare di eliminare dei vecchi giocattoli e non so sicuramente qualsiasi genitore o qualcuno che ha fatto già il babysitter o fratello maggiore ha visto questo nel momento che tu decidi questo giocattolo è da buttare arriva qualcuno a casa un bambino e comincia a giocarci e tutto un tratto quel giocattolo è la cosa più preziosa del mondo è mai successo dice proprio doveva proprio vedere quel giocattolo stava per andare nella spazzatura e diventa questo è il mio tesoro gli ebrei pure avevano un tesoro un tesoro molto più grande di un giocattolo il messia e non lo valorizzava ma la buona notizia anche se Giovanni 1 dice che è venuto in casa e i suoi non l'hanno ricevuto la buona notizia è questa che anche se prima la miseria spirituale ha portato alla ricchezza Dio non ha finito con Israele Dio non ha finito con Israele ci sono alcune chiese anche buone chiese riformate che credono che e anche la chiesa cattolica stessa che credono che hanno questa idea che la chiesa abbia sostituito Israele nel piano di Dio e non è così sicuramente la chiesa fa parte del piano di Dio ma il piano di Dio deve includere anche questo popolo questo popolo che si ravvede e che viene a sé infatti vedremo tra poche settimane Romani 11-29 dice che i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili se abbiamo ricevuto riccamente a causa della loro incredulità quindi il ritorno di Israele sarà più una ricchezza per tutti noi di quanto è stato il loro allontanamento non so te ma io non vedo l'ora di vedere questi ebrei che in massa credono nel Messia se l'indurimento di Israele che ha portato molti gentili alla salvezza è clamoroso meraviglioso il ravvedimento di Israele sarà glorioso il bello è che potrebbe cominciare anche oggi infatti la parola di Dio parla chiaramente del fatto che sarà proprio il rapimento della Chiesa il momento che inaugurerà il ritorno in massa di Israele Daniele 12-1 dice in quel tempo sorgirà Michele il grande capo difensore dei figli del tuo popolo vi sarà un tempo di angoscia la tribolazione come non ce ne fu mai da quando sorse le nazioni fino a quel tempo e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro qui vorrei fare un piccolo appello anche ai nostri amici che forse sono dei testimoni di Geova il testimone di Geova dice la meta di un testimone di Geova è essere tra i 144.000 giusto? ma la parola di Dio dice in Apocalisse 7 che saranno 144.000 testimoni dalle tribù di Israele saranno loro i testimoni in quel momento durante l'era terribile della tribolazione che aspettiamo dopo che Gesù torna sarà in quel momento che saranno i popoli israele a testimoniare il Vangelo dalle 12 tribù e saranno in maggior parte gli ebrei quindi che crederanno nell'arco di quei sette anni mentre per la maggior parte come vediamo in Apocalisse 9 20 e 21 i gentili si induriranno induriranno i loro cuori contro il Messia Dio manderà tutti quei cataclismi un po' come vediamo nella storia dell'Esodo e invece che ravvedersi un po' come quel faraone stesso avranno i loro cuori ancora più induriti verso quello che Dio sta facendo ma saranno gli ebrei a riprendersi in qualche modo il centro dell'attenzione di Dio e a ravvedersi se le notizie di questi giorni ci dicono qualcosa è che il giorno del ritorno del Signore del ravvedimento di Israele potrebbe cominciare anche oggi pensate basta che non lo dico non lo dico non voglio mettermi nei guai chiudo con la piccola apparenza mentale dico solo che adesso persone non possono sempre comprare e vendere e un giorno basterà che avranno qualcosa qua o qua e ci siamo piccola applicazione prima di andare all'ultima l'ultima osservazione l'ultima l'ultima parte del testo quando prendiamo per scontato la ricchezza che abbiamo di conoscere Cristo quanto abbiamo che prendiamo per scontato la ricchezza di conoscere Cristo e di essere perdonati da Dio lo prendiamo per scontato Matteo 13 44 dice che il regno dei cieli è simile ha un tesoro nascosto nel campo e che un uomo dopo averlo trovato lo nasconde e per la gioia che ne ha va e viene tutto quello che ha e compra quel campo non c'è tesoro più grande del Vangelo proprio come Israele sta prendendo per scontato ma un giorno avranno la pienezza di questa ricchezza ora arriviamo al quarto beneficio abbiamo visto che l'inciampo di Israele ha provocato la salvezza degli stranieri abbiamo visto che la salvezza degli stranieri provocherà la gelosia di Israele abbiamo visto il ritorno di Israele sarà più glorioso del suo allontanamento ora vediamo quanto sarà più glorioso il ritorno di Israele versetti 13 a 15 vediamo che la riammissione di Israele sarà come una risurrezione se io vi do chiedere qual è il momento nella storia dell'uomo che è stata più gloriosa della nostra fede se non la risurrezione di Gesù Cristo quale parola evoca più vittoria della parola risurrezione Giovanni 11 25 Gesù dice io sono la risurrezione e la vita chi crede in me se muore vivrà primo Corinzi 15 55 dice ho morte dov'è la tua vittoria ho morte dov'è il tuo dardo se tu togli la risurrezione dal Vangelo non è più una buona notizia è un martirio come tanti altri potete capire quindi perché Paolo ha voluto usare questa immagine come metafora della risurrezione per far capire il ritorno di Israele a Dio guardiamo versetti 13 a 15 parla a voi stranieri in quanto sono apostolo degli stranieri faccio onore al mio ministero sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni infatti se il loro ripudio è stata la riconciliazione del mondo che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti il ministero di Paolo agli stranieri era anche indirettamente dice un ministero verso gli ebrei Paolo sperava di suscitare il loro gelosia come abbiamo visto anche prima sperava che anche i suoi connazionali si sarebbero ravveduti sperava che per mezzo degli stranieri anche gli ebrei si sarebbero convertiti vorrei fare una piccola parentesi qua noi siamo una chiesa italiana però se vi guardate in giro abbiamo di tutti i colori di tutte le lingue qua dentro ma questa è la bellezza della chiesa italiana di San Sisto Perugia che anche se è vero che la nostra missione è di raggiungere gli italiani in questo posto Dio sta usando te che forse non sei italiano o forse tu che non sei perugino o forse tu che sei perugina o sei perugino Dio ci sta usando tutti insieme per raggiungere questo popolo così come Dio usa i gentili per portare gli ebrei alla conversione sembra quasi un controsenso che coloro che hanno questo Vangelo sono quelli che lo ricevono da quelli che non l'avrebbero dovuto ricevere Israele tornerà a Dio la riammissione di Israele dice qua sarà più gloriosa di quanto il loro ripudio è stato devastante mi piace accostare non soltanto la risurrezione ma anche la crocifissione c'è questa immagine come la crocifissione di Cristo è stata devastante ma necessaria per la nostra salvezza ma che infine ha portato alla risurrezione di Cristo il rifiuto di Israele è stato devastante ma necessario per la salvezza dei gentili ma sarà seguito da un risveglio come non abbiamo mai visto prima da parte degli ebrei sembra una strada lunga per arrivare dove Dio vuole andare però è la strada che Dio ha scelto per la sua gloria infatti e infine la riammissione di Israele sarà come una risurrezione si vede nel fatto che la potenza della risurrezione è nel mostrare la grazia e la gloria di chi la opera a fuori di chi è morto la parola risurrezione evoca la parola potenza è una cosa impossibile l'abbiamo già tutti sperimentato non so voi a me non piace uccidere nemmeno gli insetti dico la verità però se entrano dentro casa mia c'è la pena di morte però mi dispiace mi dispiace vedi una bella mosca perfetta ma ti garantisco che una volta che quella mosca è morta non torna in vita è impossibile per una cosa morta tornare in vita ma come Dio l'ha fatto con te e l'ha fatto con me che eravamo morti nei nostri peccati che eravamo lontani eravamo ciechi eravamo lontani così tanto da Dio e non c'era speranza noi ci ha dato speranza tramite Gesù tramite lo spirito che è venuto e ci ha fatti rivivere così un giorno Dio farà lo stesso non soltanto con noi individualmente ma con un popolo il popolo che in questo momento dovrebbe essere colui che lo segue e invece quello che lo odia e che lo ignora oggi abbiamo visto quattro benefici dell'inciampo di Israele abbiamo visto che l'inciampo di Israele ha provocato la salvezza degli stranieri abbiamo visto che la salvezza degli stranieri provocherà la gelosia di Israele abbiamo visto che il ritorno di Israele sarà più glorioso del suo allontanamento e infine abbiamo visto che la riammissione di Israele sarà come una risurrezione è sicuramente un mistero la volontà di Dio Giobbe ricordate Giobbe Giobbe capiva qualcosa della misteriosità della volontà di Dio e lui afferma questo in Giobbe 9 egli cioè Dio fa cose grandi e impescutabili meraviglie innumerevoli e allora ti devo chiedere stamattina e tu aspetti la salvezza di Dio ti fidi di Dio e dei suoi piani perfetti sei inciampato su Gesù o lo hai seguito perché lui è l'unico che può aprirti la via della salvezza la scrittura dice lasci l'empio la sua via e l'uomo inico i suoi pensieri si converta egli al Signore che avrà pietà di lui al nostro Dio che non si stanca di perdonare infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri nelle vostre vie sono le mie vie dice il Signore come i cieli sono alti al di sopra della terra così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri voglio chiedere anche a te che sei un figlio di Dio stamattina se hai creduto ti rendi conto di quanto sei stato graziato l'allontanamento di Israele è solo temporaneo la gloria che ne verrà a Dio per il loro ritorno invece è per sempre vi ricordate il libro Il piano di Dio per Israele che ho citato più volte il pastore Steve Krylov racconta questa storia e dice che quando Federico il Grande il re di Prussia chiese al suo cappellano di mostrargli la più convincente prova della fede cristiana il cappellano rispose semplicemente gli ebrei il popolo ebreo rimane la testimonianza della veridicità della parola di Dio molto dopo che altre grandissime civiltà sono ormai estinte l'incredulità di Israele non ha frustrato le promesse di Dio a Israele piuttosto questa incredulità ha messo in atto il piano di redenzione di Dio per l'umanità e quindi ti chiedo sei pronto per la prossima tappa nel perfetto piano di Dio Gesù potrebbe tornare oggi sei pronto per accoglierlo o sarai tra quelli a cui dirà io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me malfattori malfattori preghiamo signore grazie che sei un Dio che mantiene le promesse grazie che tu hai fatto delle promesse a Israele all'inizio della loro storia e le manterrai grazie signore che tu hai suscitato hai permesso hai indurito i loro cuori in modo che noi che non siamo ebrei potessimo accogliere questo messaggio ed essere salvati e signore ti ringrazio che in un giorno molto vicino tu riporterai questo popolo a te e noi ti agorredremo ti glorificheremo ti esalteremo ti innalzeremo per questo perché tanto di più come una risurrezione ci mostrerà la tua potenza come tu hai risolto il tuo figlio dalla croce perché era morto sulla croce così tu riporterai in vita questo popolo per la tua gloria aiutaci a esserti fedeli fino a quel giorno nel nome di Gesù Amen